Oggi prepariamo la salsa a cioccolato. Questi sono gli ingredienti. Acqua, zucchero e cacao amaro. Per prima cosa mettiamo lo zucchero e l'acqua in un pentolino. Andremo a mettere sul fuoco e faremo bollire. Muovete lo zucchero inizialmente in modo che non si attacchi al fondo del pentolino. L'acqua e lo zucchero devono bollire in circa per 6-7-8 minuti. Comunque finché non acquistano una consistenza sciropposa. Prendendoli con un cucchiaio deve fare il filo. Come potete vedere ancora non è al punto giusto di cottura. Dopo circa 8 minuti che sta bollendo, il nostro sciroppo è pronto. Capirete la consistenza dello sciroppo guardandolo sul cucchiaio. Sarà molto più denso della semplice acqua. Aggiungere il fuoco e andare a raggiungere il cacao. Passate il cacao in un setaccio. Un muro che sarà più facile da sciogliersi. Dopodiché girate con una frusta finché non ci scioglie completamente. Il cacao deve essere perfettamente scioso. Una volta che il cacao si è bene sciolto, la salsa al cioccolato è pronta. Usate la salsa al cioccolato ancora calda. Nel caso si raffreddi e si rassodi, potete sciogliere mettendo il pentolino a scaldare a bagnomaria. A presto. Grazie a tutti.